ciao tik tok e allora riprendiamo i nostri blind sniff di zoologist questa volta con squid ti ricordo che questo marchio viene venduto in italia in esclusiva praticamente credo che lo abbia soltanto questa profumeria qua veleno luxury parfumery oggi parliamo di squid il marino della casa vediamo proviamo blind sniff mai sentito mai sentire allora dico subito che nel momento in cui lo spruzzi senti un una sensazione di perdizione mi sento sperduto negli abissi dell'oceano ti senti sprofondare sott'acqua giù giù sempre più giù sempre più al buio una cosa pazzesca un profumo che fa paura ti senti precipitare scendi scendi vedi sempre più buio sempre più nero non c'è più luce non c'è niente senti che sei dentro l'acqua ma nell'oblio più totale non ha niente di allegro niente di gioioso è soltanto un fluttuare verso il basso al contrario e sentirsi sprofondato e sentirsi sprofondare nei fondali morini sempre più giù incredibile una sensazione di angoscia non so fino a che punto può dare benessere questo profumo fatto sai che è molto particolare lo faccio asciugare e ritorno il profumo diciamo è andato avanti nel frattempo ma la sensazione non cambia più lo respiro e più scendo sott'acqua non è un marino che ti fa pensare alle belle giornate in riva al mare o alle belle serate vicino al mare no niente di tutto questo ti fa pensare ti dà quasi tristezza malinconia ti fa pensare di essere abbandonato sotto il livello dell'acqua sotto il livello del mare questa sensazione mi dà credo che sia l'inchiostro perché ho visto che c'è una componente di inchiostro ma non voglio parlare di nessuna nota olfattiva non avrebbe senso un profumo molto particolare comunque che risulta molto elegante da provare non azzardate il blind by da provare grazie a tutti 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 grazie a tutti